che è successo però no 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 che spettacolo belli bravi bella prestazione cuore e grinta bella partita bravi tutti veramente non sto scherzando bravi tutti per la cattivera la grinta il cuore messi in campo quest'oggi magari magari andare tutte le volte così in campo lo vedete che si può lo vedete che si può bravi bravi tutti veramente bravi tutti bravo alexandro per me uno dei migliori che se gli usciva quel gol se gli usciva quel gol ragazzi mu cacciavo a pennello bonucci mostruoso stasera come lo stesso bremer il bologna parliamoci chiaro il bologna lo abbiamo l'abbiamo ammazzato nel primo tempo facendoli stancare girando palla e poi il secondo tempo non hanno capito un cazzo con i gol con i gol il primo vabbè di Kostic che ragazzi che te lo dico a fare Milik recupera palla e scivolata parte il contropiede per Blaovic Blaovic ci fa un assist al bacio per Kostic che è bravo a schiacciare la palla sotto di sinistro e a farla alzare all'angolino gol voluto con la culo sempre culo detto questo Bologna che non ha fatto certo voi ricordate qualche azione del Bologna non lo so non mi ricordo forse un liscio di bonucci di testa ma fondamentalmente poi la Juve è entrata in campo il secondo tempo e trova il raddoppio con una bellissima azione di di Milik che apre il gioco per Mekenni Mekenni di prima la mette sul secondo per Blaovic che con una spizzata di testa chiude la partita con una mezza papera del portiere ma chiude la partita e 2 a 0 e tutti a casa poi poi c'è da dire calcio d'angolo cross in mezzo bonucci è in linea perché stavolta è in linea che si sa perché questa volta le immagini del bar non sono state perse però c'erano tutte chi sa perché colpo di tacco di bonucci che non la tocca per Milik che botta naseggiata boh sotto attraverso la parola perché oh perché Mario lui e poi e poi sappiamo tutti che la partita poteva finire 5 a 0 e vi spiego anche il perché perché Milik recupera palla da un assist al bacio per Blaovic che lo mette a tu per tu con il portiere ma giustamente quando io lo critico voi mi date contro quei gol si segnano fa il pallonetto non è che indomina la porta no butta direttamente fuori va bene va bene non voglio dire niente stasera bravi tutti però sono piccole differenze che poi quando vai a giocare le partite quelle vede contano quei gol si segnano caro Blaovic quel contropiede stai tu al portiere lì una volta che si è arrivato nel portiere puoi tirare anche di piattone gol e gol il pallonetto non fare il fighetto non fare il fighetto scassa stavolta e poi arriviamo al momento clou il rigore quelle rigore quelle rigore su Miretti eh signori quelle rigore il teneremo inizio diceva ah vabbè ma sul 3 a 0 è anche più accettabile da fissizia da quella pottana è accettabile questi sono rigori se non se non curiamo questi episodi ragazzi è finita finita è finita comunque bravi tutti stasera Danilo Locatelli Rabiù McKennie Blaovic Milik Alessandro Bremer chi era l'altro Danilo Bremer Bonuccio bravi tutti bravi tutti i subentrati eh bravo Miretti c'era il senso hanno fatto poco e niente perché poi la Juve dalle statistiche lo vedete il possesso palla è di più del Bologna perché la Juve sul 3 a 0 ha detto vai vai tieni tu palla che io mi conservo per la Champions League e per il campionato a Juve bellissima Juve magari magari speriamo sia un inizio di una nuova stagione ma me lo spero con tutto il cuore ragazzi fino alla fine sempre forza Juve iscrivetevi al canale lasciate mi piace e condividete ciao belli sempre sempre forza Juve sempre